Bufera Messi-Weighorst. La FIFA, attraverso il documentario ufficiale della Coppa del Mondo, svela ciò che è accaduto negli spogliatoi al termine del quarto di finale tra Argentina e Olanda, match che si concluse con la vittoria degli uomini di scalone e i calci di rigore. Messi fu protagonista di un acceso battibecco con Ute Weighorst, autore di due reti nel corso dei 90 minuti. Durante un'intervista rilasciata a Tixports al termine della partita, Messi si è scagliato contro il giocatore olandese, cosa guardi bobo scemo? Via via. Vai? Il faccia a faccia è il docufilm prodotto dalla FIFA, che si intitola scritto nelle stelle. Rivela la verità su quei minuti. Weighorst camminava abbracciato ad Epole ed ha provato a stringere la mano a Messi. Ma l'argentino si è rifiutato di salutarlo. A quel punto l'attaccante olandese ha continuato a parlare con Aguero. Lautaro Martinez e Lisandro Martinez. Intanto lanciava sguardi verso Messi, impegnato nell'intervista. A quel punto l'argentino, con un'espressione seria, si è rivolto verso Weighorst. Con le parole diventate ormai storiche, cosa stai guardando, scemo?